un gioco sulla raccolta differenziata allora partiamo con la preparazione dell'ambiente togliamo il gattino aggiungiamo uno sfondo lo sfondo io ne ho messo uno a casa ma possiamo fare per questo gioco quello che volete io ho scelto metro poi togliamo lo sfondo bianco che non ci serve dopodiché aggiungiamo gli sprite andremo a creare due sprite il primo che chiameremo bidone e come costumi vado a prendere i costumi che questi qui del bidone li prendo ok prendiamo anche gli altri li inserisco in ordine alfabetico per semplicità umido e scusate e vetro ok tolgo il costume bianco come sempre a questo punto creo un secondo sprite che chiamerò rifiuto ok e carichiamo anche qui non questo carichiamo anche qui dei dei costumi che ho preparato che sono simili a quelli vedete che richiamano sempre quelli del bidone allora la carta plastica secco umido e vetro ok togliamo sempre il solito costume bianco iniziamo dal bidone però prima ci creiamo le variabili che ci servono non guardate la grandezza degli sprite dei costumi partiamo con la creazione di tre variabili che ci serviranno allora la prima variabile che chiamiamo costume dopo capiremo cosa ci servono ne parleremo dopo giusto e sbagliato ok il gioco sarà sostanzialmente un bidone centrale che noi andremo a cambiare andremo sostanzialmente a cambiare il costume con i tasti 1, 2, 3, 4, 5 della tastiera il rifiuto partirà dall'alto scenderà verso il basso dritto in base al tipo di rifiuto noi dovremo scegliere il tipo di costume il tipo di costume verrà gestito tramite la variabile appunto costume iniziamo dal bidone allora andiamo in situazioni prendiamo la nostra solita bandiera verde per far partire il tutto zoom un pochino dopo di che vado in aspetto in aspetto prendo porta dimensione a ok e lo portiamo a 20 questo ci serve per dare la dimensione del nostro poi prendo il blocco via x e y e gli dico 0 in modo tale che si metta centrale e come posizione gli dico meno 143 che sarà la posizione grossomodo qui ok sull'asse sull'asse y e altra cosa gli dico di partire dal costume carta in modo tale che tutte le volte che noi premeremo bandierina verde come in questo caso il bidone si mette qui centrale e utilizzerà come primo bidone il quello della carta bene adesso ci prepariamo la parte di scelta dei bidoni ok sono 5 costumi carta plastica secco umido e vetro li sceglieremo come vi dicevo tramite i pulsanti 1 2 3 4 5 allora andiamo in situazioni prendiamo il blocco quando si preme il tasto spazio da qui scelgo il pulsante 1 e gli dico da aspetto passa al costume carta naturalmente se adesso premiamo 1 non succede nulla a questo punto per velocizzare le cose faccio tasto destro lo faccio attenzione partendo dal blocco giallo tasto destro duplica lo metto qui sotto e cambio metto 2 e scelgo l'altro costume che è plastica vediamo se funziona 2 1 2 1 ok facciamo anche gli altri duplica e quindi facciamo il 3 che sarà il secco duplichiamo ancora quindi il 4 e facciamo l'umido e l'ultimo e l'ultimo che sarà il vetro qui sotto ok 5 vetro vediamo se funziona tutto allora 2 3 4 5 e 1 ritorniamo alla carta bene adesso iniziamo a programmare quello che riguarda rifiuto quindi clicco sullo sprite rifiuto e i costumi sono già a posto allora andiamo in situazioni sempre la nostra bandierina verde come prima vi faccio un po' uno zoom per vedere meglio poi prendiamo da aspetto porta dimensione e gli diciamo che qua è una dimensione del 20% e usiamo il blocco nascondi in modo tale che adesso prendiamo la bandierina verde e i nostri rifiuti si nascondono bene adesso usiamo un blocco che ci servirà per far cambiare il costume ok al nostro rifiuto noi abbiamo 5 costumi nel caso del bidone abbiamo detto usiamo 1,2,3,4,5 nel caso del del rifiuto useremo la variabile 0 per andare a determinare quale costume utilizzare allora per far questo in modo tale da poter anche rigenerare poi il cambio del rifiuto e la posizione iniziale perché come dicevo il gioco sarà che il rifiuto scende ok quando tocca il bidone se il bidone è corretto andranno sulle risposte giuste altrimenti sarà sbagliato ma quando arriverà qui ritornerà nella sua posizione iniziale cambiando il tipo di costume allora usiamo un trucco che è questo situazioni invia a tutti messaggio in modo tale da creare un evento interno al nostro programma cambiamo il messaggio diciamo nuovo messaggio e lo chiamiamo cambia costume ok io di prassi non uso mai spazi bianchi ma è indifferente per scratch ok bene quando noi creiamo usiamo invia il blocco invia tutti e l'eventuale messaggio abbiamo disposizione anche quando ricevo ok naturalmente non sarà quando ricevo messaggio 1 ma quando ricevo cambia costume cosa succede quando facciamo cambia costume allora vado in movimento prendo vai a x y e gli dico 0 in modo tale che parta sempre nel punto centrale sull'asse x e in una posizione in alto che sarà 176 a questo punto abbiamo detto giochiamo con la variabile costume vado in variabili prendo porta costume e utilizziamo il pseudo casualità tramite il blocco operatori numero a caso lo posizioniamo all'interno del nostro porta e gli diciamo da 1 a 5 in modo tale che Scratch sceglie un numero a caso tra 1 e 5 questo numero a caso lo salviamo all'interno della variabile e utilizziamo la variabile per richiamare il costume allora utilizziamo il blocco da aspetto passa al costume vedete che Scratch utilizza il blocco passa al costume e qui trovate i nomi dei costumi in realtà i costumi si possono richiamare sia tramite il nome sia tramite il numero se scorrete l'elenco dei blocchi aspetto vedrete che c'è il blocco del costume che può essere impostato su numero oppure nome e un piccolo trucco è proprio questo se noi da variabili prendiamo la variabile costume e la inseriamo al posto del nome vedrete che si cambierà a caso il costume del rifiuto adesso vi faccio vedere torno in aspetto prendo mostra in questo modo e guardate cosa succede là in alto il rifiuto man mano che clicco sul quando ricevo ok cambia proprio perché il numero a caso vedete premo 5 andiamo a vedere qual è il costume 5 è vetro premo ancora 2 che è la plastica ok quindi possiamo richiamare i costumi anche attraverso il il numero facciamo l'ultimo blocco andiamo in movimento e prendiamo scivola in in 1 secondi a posizione a caso in realtà gli diremo 3 secondi e non posizione a caso ma verso il bidone a questo punto noi vedete premiamo la bandierina cosa succede? il nostro bidone scende ok bene dobbiamo programmare quello che dovrà avvenire quando il bidone quando scusate il rifiuto andrà a toccare il bidone ok riduco un attimo lo stage e andiamo a programmarlo allora facciamo in questo modo torniamo in torniamo in bidone lo facciamo sotto bidone prendiamo di nuovo la bandierina verde ok e prendiamo le scusate le due variabili porta quindi prendiamo due volte il blocco porta e impostiamo su giusto e sbagliato perfetto tiro un po' in su per avere un po' più di spazio ok in modo tale quando partiamo dall'inizio le variabili giusto e sbagliato siano sempre corrette poi andiamo in controllo prendiamo un blocco per sempre quindi un blocco se noi dovremmo dire per sempre se il bidone sta toccando il rifiuto vi ricordo che stiamo lavorando sul bidone succederà qualcosa di particolare per sapere se sta toccando il rifiuto abbiamo i blocchi sensore il primo blocco sta toccando puntatore del mouse lo inseriamo nella parte esagonale e naturalmente cambiamo e diciamo se sta toccando rifiuto allora se sta toccando rifiuto cosa succede? prendiamo un altro se questa volta però prendiamo un se allora altrimenti in questo modo da operatori prendiamo il blocco uguale allora vi dicevo all'inizio che avrei inserito i bidoni e i rifiuti in ordine alfabetico in modo tale che ci sia una corrispondenza esatta tra il costume 1 che è il costume 1 della carta del bidone con il costume 1 ok che è la carta del rifiuto in modo tale da ottenere questo gioco da aspetto prendo il blocco numero costume ok il numero costume questo è il numero costume del bidone se il numero del costume bidone è uguale alla variabile costume che noi utilizziamo per scegliere il rifiuto cosa succede? cambieremo la risposta giusta di 1 ok? quindi se sto toccando il rifiuto se il numero del costume è uguale alla variabile costume cioè il rifiuto scelto allora cambierò la risposta scusate cambierò la variabile cambia giusto di 1 poi in altrimenti andremo a mettere cosa? la variabile sbagliato quindi se il costume non è uguale al costume del bidone andremo ad aumentare il rifiuto sbagliato ultima cosa in modo tale che riparta da 0 il rifiuto andiamo a utilizzare di nuovo il comando invia a tutti cambia costume quindi quando toccherà il nostro rifiuto scenderà sempre verticalmente non si sposta quando tocca il bidone cosa succede? se il bidone è corretto allora aumenterà la variabile giusta altrimenti aumenterà la variabile sbagliato in ogni caso fatta questa scelta manderà il comando cambia costume che vi ricordo è questa cosa qui cioè il rifiuto tornerà nella posizione iniziale verrà scelto uno a caso e automaticamente poi tornerà a scendere facciamo una piccola prova e vediamo se funziona eccolo lì vedete che è aumentata quella sbagliata carta scusate adesso è giusto giusto due guardate plastica è sbagliato tre secco giusto due ok due e così via vedete che man mano che il rifiuto scende se il rifiuto è giusto ok due cinque uno due cinque uno cinque uno naturalmente c'è una pseudo casualità bisognerebbe gestire anche questa cosa bene abbiamo concluso quello che è un po' l'esercizio base di questo di questo gioco nel video successivo vedremo come far muovere il rifiuto lungo la la parte alta il bordo alto del nostro del nostro stage e allo stesso modo muovere il nostro bidone lungo la parte bassa e il lato basso del nostro del nostro stage